Cari spettatori, benvenuti nel mio mondo. Oggi vi porterò a vivere l'emozionante viaggio di Terra Amara, svelando gli eventi che vi terranno incollati allo schermo dal 31 luglio al 4 agosto. Preparatevi, perché vi aspettano colpi di scena mozzafiato, quindi, vi prego, non perdete nemmeno un attimo, ne varrà sicuramente la pena. Cominciamo dalla puntata di lunedì 31 luglio, in cui Ankar farà una rivelazione straordinaria a Demir, non ha mai smesso di amarlo e sarà al suo fianco in questo momento difficile. Demir, a sua volta, mostrerà una lettera scritta dal padre poco prima di morire, in cui gli chiede di prendersi cura di Sevda fino alla fine. Riconoscerà di averlo fatto solamente per compiacere suo padre, ma col tempo ha sviluppato un profondo affetto per quella donna. Alla fine, i due si riconciliano e si abbracceranno, ma Demir sottolineerà che, a causa dell'amore che prova, non concederà il divorzio a Zuleia e non la lascerà mai andare via, per nessun motivo al mondo. Nel frattempo, scopriremo un segreto sconvolgente riguardante Ilmaz poco prima della presunta fuga, che alla fine non si è mai realizzata. Ilmaz aveva venduto quasi tutti i suoi beni per poter avere abbastanza soldi per rifarsi una vita all'estero con Zuleia. Questa rivelazione aggiungerà una nuova sfumatura alla storia, portando a un intreccio imprevedibile. Ankar, desiderando riportare la pace tra le famiglie coinvolte, organizzerà un incontro tra Mugei Ganfekeli e Beis. Cercherà in tutti i modi di riappacificare le due famiglie, ma Zuleia respinge questa proposta di riconciliazione. Lei dichiarerà che non le interessa né Ilmaz, ancora arrabbiato, né Demir, ma l'unica cosa che le importa veramente è che i suoi figli stiano bene. Passiamo ora alle anticipazioni dell'episodio di martedì, dove Demir dovrà affrontare una voce che sta circolando sempre di più a Kukurova. Sostiene che Adnan non sia il suo figlio biologico, ma di Ilmaz. Questo colpo basso metterà alla prova il cuore di Demir, ma egli deciderà di affrontare la situazione con onestà. Terrà una conferenza stampa in cui ammetterà che Adnan effettivamente non è il suo figlio biologico, ma sottolineerà con forza che lo ha chiamato suo figlio sin dal primo giorno e che rimarrà sempre il suo padre a tutti gli effetti. Ilmaz, sentendo queste dichiarazioni, deciderà di intervenire alla conferenza stampa per smentire le parole del suo rivale e rifiutare qualsiasi tentativo di chiarimento o armistizio. Nella puntata di Terra Amara del 2 agosto, il destino dei personaggi si intreccerà in una piega sconvolgente. Durante la tanto discussa conferenza stampa, Ilmaz si romperà nella stanza di Adnan e lo sequestrerà, portandolo via senza alcun permesso. Saniyai sarà l'unica testimone di questa scena, ma dopo aver parlato con il marito Ghaffur, deciderà di nascondere ciò che ha visto. La paura delle possibili conseguenze da parte degli Yaman la spingerà a fare finta di nulla, ignorando il fatto che Adnan sia stato portato via contro la volontà di tutti. Nel frattempo, l'assenza di Adnan dalla tenuta Yaman susciterà tensioni e preoccupazioni. Demir sarà furioso, accusando Gulten di aver permesso a Ilmaz di portare via il bambino di nascosto. Zuleya sarà disperata e delusa, temendo che Adnan venga ora cresciuto da Ilmaz e non da lei, come accadeva con Demir in passato. Si troverà a fare un amaro parallelo tra Demir e Ilmaz, riconoscendo somiglianze tra i due uomini che le hanno strappato via i figli. Fortunatamente, la situazione avrà un'inattesa svolta, poiché Ilmaz deciderà di riconsegnare Adnan alla tenuta Yaman, affermando di non voler separare il bambino dall'affetto materno di Zuleya. Nonostante questa scelta, Zuleya sarà molto arrabbiata con Ilmaz, dichiarando che la loro tormentata storia d'amore è conclusa, poiché il comportamento di Ilmaz è stato simile a quello di Demir in passato, quando portò via i figli. Ilmaz dovrà affrontare anche la rabbia di Mujaygan, che è stufa di essere esposta alla pubblica vergogna a causa delle azioni del marito. Le sue azioni avranno conseguenze sempre più pesanti per tutti gli altri personaggi coinvolti. Nel frattempo, Fekeli noterà un cambiamento nei sentimenti di Ankar nei suoi confronti. Desideroso di rafforzare il legame con lei, Fekeli le regalerà un anello di fidanzamento, chiedendole di diventare sua moglie. Con gioia e commozione, Ankar accetterà la proposta e comunicherà subito la notizia a Demir tramite una lettera. Anche Fekeli condividerà la felice notizia con i suoi parenti, manifestando la sua gioia per questo nuovo capitolo della loro storia. Giovedì 3 agosto sarà un episodio davvero avvincente di Terra Amara, poiché rivelazioni scioccanti sconvolgeranno le vite dei personaggi principali. Ankar riceverà notizie sconcertanti dal detective privato che aveva ingaggiato per sorvegliare Beaccais. Scoprirà che la donna nasconde segreti compromettenti e che ha addirittura assassinato entrambi i suoi coniugi per ottenere il loro denaro, con la complicità del suo spietato fratello, un dottore senza scrupoli. Le tessere del puzzle cominceranno a incastrarsi, portando a galla una trama intricata di inganni e tradimenti. Beaccais diventa sempre più sospettosa di Fikret, il nipote di Fekeli. Convinta che il ragazzo stia usurpando l'identità del vero nipote, lo considera un impostore. I suoi sospetti si intensificano quando nota che Fikret non mostra mai il petto, nemmeno quando gli rovescia del tè addosso, nascondendo vistose cicatrici che potrebbero rivelare la sua vera identità. Determinata a scoprire la verità, Beaccais inizia a rovistare tra le cose di Fikret e trova un passaporto con un nome falso. Questa scoperta la getta ancora di più nel caos e nell'incertezza. Nel frattempo, la situazione si fa ancora più complicata con Ankar, che contatta Beaccais e la invita in una zona abbandonata, forse con l'intento di ricattarla. Una volta sul posto, Ankar rivela di avere tutte le prove del coinvolgimento di Beaccais negli omicidi dei suoi ex mariti e di non poter più allontanare Mugei Gandhafekeli. La situazione si fa sempre più tesa, e il fratello di Beaccais, Bezar, rimane in silenzio, costringendo Beaccais a cercare disperatamente una via d'uscita dalla situazione compromettente. Nell'episodio di venerdì 4 agosto, la tensione a terra amara raggiunge livelli insostenibili. Ankar, determinata a scoprire la verità su Beaccais, la minaccia apertamente, cercando di far emergere le sue colpe. Nonostante la pressione, Beaccais si mostra particolarmente nervosa ma resta salda nel negare qualsiasi coinvolgimento nei misfatti di cui è accusata. Ankar, decisa a sbarazzarsi di lei, la congeda e la esorta a lasciare Cucurova immediatamente, minacciando di denunciarla e farla finire in prigione. Beaccais, fingendo di accettare la richiesta di Ankar, si allontana, ma in realtà, il suo animo oscuro si prepara a compiere un gesto terribile. Dopo aver meditato su tutti i ricordi felici della sua vita, compresi quelli legati ai suoi amati cavalli, Beaccais ritorna indietro e uccide Ankar in un atto di disperata follia. Mentre commette l'orrendo delitto, la sua mente oscilla tra passato e presente, rivelando i turbamenti che l'hanno portata a questa tragica decisione. Dopo aver occultato il cadavere di Ankar e rubato tutti i gioielli, Beaccais spera che il ritrovamento del corpo sembri il risultato di una rapina finita male, cercando di nascondere le sue tracce nel modo più subdolo possibile. Nel frattempo, Demir farà una scoperta inquietante. Ritroverà la lettera che Ankar stava scrivendo per annunciare il suo fidanzamento con Fekeli. La lettera sarà però incompleta, e la preoccupazione di Demir crescerà quando non riuscirà a trovare traccia di Fekeli. Inizieranno così le ricerche per ritrovare Ankar, e la tensione si intensificherà memmano che la storia si sviluppa. Le vicende di Terra Amara si intrecciano in una rete di misteri e colpi di scena sempre più avvincenti, lasciando il destino dei personaggi incerto. Il cuore della trama si fa sempre più intricato, mentre ognuno dei protagonisti si trova a fare i conti con le proprie azioni e i segreti celati nel profondo. Continuate a seguirci per scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo di questa avventura coinvolgente. L'intrigo e il dramma di Terra Amara vi terranno incollati allo schermo, pronti ad affrontare nuove sorprese e emozionanti svolte nella storia dei nostri amati personaggi. Non mancate il prossimo appuntamento.